Fabio Loi, emergenza Covid-19 ha travolto anche Quiliano, non solo tutta Italia, tutto il mondo ormai sta affrontando questa emergenza sanitaria, da domani cambierà lo scenario soprattutto per chi lavora nella ristorazione. I tuoi clienti come possono continuare a usufruire di una parte, almeno di servizio? Io sarò presente dalle 8 a mezzogiorno e dalle 3 alle 7 per garantire anche un servizio di asporto di tutti i miei prodotti all'interno del locale, soprattutto a livello di vino e utilizzerò inoltre la tabaccheria e tutti i suoi servizi essenziali. Quindi come tabaccheria potrai rimanere aperto ma ovviamente il servizio bar viene sospeso? Assolutamente sì, il servizio bar sarà sospeso e sarà solo attivo a questa parte essenziale del lavoro che è la tabaccheria e i suoi servizi. Quindi il pezzo forte sono i vini, per esempio qualche bottiglia? Assolutamente sì, metteremo a disposizione una vastissima scelta di vini che vanno dalla Liguria alla Sicilia e non solo, anche un buon compardo straniero e saranno tutti disponibili alla vendita, all'asporto, che dire, speriamo e vi aspettiamo. Come ti possono contattare i clienti? Mi possono contattare su tutte le piattaforme social, Instagram, Facebook, dove anche metterò la mia mail e il mio numero di cellulare per qualsiasi informazione riguardante un'etichetta o alla vendita, alla compra vendita del vino.